Un caso finito persino sulle tv nazionali. Una polemica che rimbalza tra maggioranza e opposizione che oggi annuncia di avere delle conseguenze legali per chi aveva inizialmente portato l'attenzione sul caso. Domenico Pettinari scopre a mezzo stampa di aver ricevuto una denuncia dal governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in merito alla spesa approvata dalla Regione per l'acquisto di un immobile dove trasferire gli uffici dell'Asla. La richiesta di risarcimento ammonta a 200.000 euro. Il motivo perché tra le varie attività di sindacato in prospettivo ho fatto un'inchiesta sulla palazzina dell'Als di Pescara che ci costa un costo complessivo dell'operazione 7 milioni di euro, 2 milioni e 800 mila euro per acquistarla e 4 milioni per ristrutturare. A mio avviso è una spesa inutile, ribadisco che è una spesa inutile perché all'interno dell'Als di Pescara ci sono strutture vuote e inutilizzate che potrebbero essere ristrutturate. Pettinari si dice tranquillo, esistono documentazioni e carte che attestano le sue dichiarazioni e il fatto di aver ricevuto un atto così forte da parte della massima carica politica abruzzese sembra per lui un attestato di stima e di buon operato. Ebbene se il presidente D'Alfonso pensa di intimidirmi con questa strategia, la strategia di citare in giudizio un esponente politico poi ha detto che la prima volta in vita sua che ha citato in giudizio un esponente politico evidentemente sto facendo bene il mio lavoro, stiamo facendo bene il nostro lavoro ed è un'opposizione qualificata la nostra. Non ultimo apprendiamo sempre dalla stampa che addirittura lui vuole mettere il bavaglio alle opposizioni infatti ha parlato per la prima volta di introdurre la fiducia, il voto di fiducia alla regione Abruzzo vale a dire che vorrebbe modificare lo statuto e il regolamento per bloccare l'ostruzionismo bloccare i diritti e le procurative delle opposizioni quando loro ne ritengono necessari. Questa è un'altra situazione assurda, è un bavaglio, non lo permetteremo ma sicuramente ribadiamo non ci lasceremo intimorire, andiamo avanti, andiamo avanti più forti di prima.